Finalmente Fede ci hanno chiamato per il nostro primo lavoro, sono felicissimo! Ok, che lavoro è Stef? Allora, mi hanno detto che un tipo, abbastanza ricco per di più, quindi questa è già un'ottima notizia Assolutamente sì! Ha una casa bruttissima! Ok! E vuole che qualcuno gliela migliori Quindi, teoricamente, io ho pensato questo Ok, è il nostro primo lavoro, quindi sono un po' in ansia Ma se la sua casa è davvero brutta per essere brutta, è difficile far peggio Quindi, teoricamente, possiamo stare abbastanza tranquilli E sì! Tu costruisci la casa, io ti do una mano un pochettino a modo mio No, tu costruisci la casa! No, Fede, lo sai Come non fai nulla, Stef? Ti prendo a calci? Nel corso da architetto e da costruttore, tu prendevi sempre dieci, io prendevo sempre due Vuoi far costruirmi la casa? Ah, quello è vero! No, dai, che poi gli cade in testa e ci citano per danni e non va bene, Stef Cercherò di essere utile in altri modi, va bene? Comunque, siamo abbastanza vicini, credo di iniziare già a vedere la casa, Fede No, non può essere quella Eh, vedo qualcuno, quindi penso che sarà quella Stef, dimmi che è una montagnetta di terra mal riuscita, ti prego Una collinetta uscita male nel mondo di Minecraft No, 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 no Assomiglia un po' alla casa che avevo fatto in quel corso a scuola, vero? Un po' gli assomiglia, eh Ma l'hai fatta a te? No, 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 giuro che non sono mai stato in questo posto Allora Ah Ah Ok, 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 no, sì Allora, solo della sua faccia Io, Stef, penso di... Aspetta, vieni qua che se non ci sente Penso di aver capito tutto, eh Dimmi, dai Ora capisco perché la casa è così brutta Ok È un incapace, è un noob È normale Non riesca a costruire Eh, appunto Non c'è bisogno di neanche il po' la voce Non si offende, glielo puoi dire Salve, noob No, 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 Ferre Poi non ci paga Lui ha accettato ciò che è Te lo garantisco Ok Non ho soltato sicura Ha accettato ciò che è Te lo garantisco Allora, Stef, se l'avesse accettato Si sarebbe perlomeno asciugato la bava Se proprio dobbiamo dirgli Quello è vero, eh Quindi secondo me non è molto consapevole Poteva farlo, poteva farlo Comunque Buongiorno, noob Ciao Ho sentito dire che siete due abili costruttori Un abile costruttore Ferre, io do una mano Mi potreste dare una mano? Il mio più grande sogno è possedere una casa bella come quella dei pro Purtroppo però non sono molto brava a costruire Ma va? Beh, allora ce ne siamo accorti E capisco anche perché ambisce proprio quella del pro Perché lui di solito viene proprio schernito dai pro Quindi ci sta Mi potete aiutare? La mia famiglia è ricca Quindi sono lì non sono un problema Ok, questa è un'ottima notizia Vediamo un pochettino Teoricamente Ferre nella cesta Oh mio Dio, Steph Ma quelli sono centoni? Ascolta, Steph Vieni qua Ma lui ci sente, dai Prendiamo i soldi e scappiamo Non possiamo Per sempre Allora Dai, Steph, con quei soldi ci viviamo venti vite Se vogliamo diventare i costruttori più bravi del mondo Dobbiamo farci una carriera, una fama Non è che per rubare va No, a me va bene così, Steph I soldi e scappo No A posto per l'eternità Ferre, l'architetto si fa per passione Non per fare i soldi Ma solo tu lo volevi fare per passione Io lo volevo fare solo per i soldi Perché è un lavoro in cui si guadagna bene Allora, grazie mille, noob I soldi ci basteranno di sicuro Li prendi te Fere, c'è una cosa importante Ti sembrano tanti Ma se lui vuole la casa come il pro Dobbiamo fare tutta la casa dei diamanti È vero Quindi costa, eh Oh cavolo Costa, costa, costa Cioè, anche perché comunque è una casa non indifferente Eh, non è piccola infatti Non è piccola Lui comunque ci ha provato a fare una bella casa E se dobbiamo trasformare questa casa che è abbastanza grande Serviranno tanti, 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 tanti diamanti Sì, assolutamente In ogni caso so che qui vicino c'è un piccolo villaggio, ok Con diversi negozianti Ok Che dovrebbero vendere i materiali che ci servono Allora, vediamo Spero che avranno tutto quello che ci serve Andiamo a fare shopping Vedi le bancarelle, guarda, siamo già vicini Oh, che belle E andiamo a fare shopping con i soldi del nubo Magari comprati una o due cosette per te Sì, sì, sì Ma di sicuro mi compro qualcosa, Steph Me lo merito Occhio, dobbiamo conoscere un pochettino chi vive in questo villaggio Che potrebbe esserci utile No, chi vende in questo villaggio Chi vende in questo villaggio Ma che ci viviamo pure Abbiamo Poppy Che dalle cose che vedo Penso che venda le cose che hanno a che fare col giardino Sembrano a fioraia Esatto, direi che è quello Poi qui abbiamo Signorino Oh Che nome è È stra elegante È molto elegante lui E sembra che venda molto delle cose per arredare la casa Sembrano delle decorazioni Sì, vedo un po' di tutto Pari tipi di decorazioni Perché ci sono tante cose qua Esatto, poi c'è Pietro Che direi che vende i materiali classici di Minecraft Perché vedo legna, pietra Vedo tutte le cose più classiche possibili di Minecraft E infine qua abbiamo Lex Che se no ti è vestito con un certo stile Lui è il ricone, Steph Probabilmente è parente del noob, secondo te È un ricone, cioè guardalo Beh no, però non sembra altrettanto noob Secondo me questo ci frega pure con i prezzi E noi dobbiamo commerciare molto con lui Dobbiamo contrattare Non bisogna farsi fregare Accettare subito i prezzi Allora, vediamo i suoi prezzi Vediamo i suoi prezzi Allora, per 16 di quarzo Ci chiede 50 di soldi Ok Per 16 blocchi di gold Ci chiede un centone Per un blocco di diamante Ci chiede un centone Sempre un centone No, però se no ti dà 16 a 1 Quindi comunque è tantissimo E gli smeraldi ancora di più del diamante Te ne dà 8 per mille Perché sono 10 centoni Ok A noi in questo caso servono soltanto i blocchi di diamante Perché lui ha chiesto la casa come i pro I pro lo sanno tutti E hanno la casa tutta fatta di blocchi di diamante Quindi quello dobbiamo comprare, Fere Allora, Steph Io ti dico Ascoltami un attimo Dobbiamo ragionare bene Sì Perché giustamente la casa con questi prezzi Non potrà essere interamente di diamante 10 Quindi io dico Siccome è un doob Io ho una proposta No, aspetta Ti voglio fare anche la mia Ok Poi mi fai la tua Ok, va bene E vediamo se ci troviamo d'accordo Va bene, sì Siccome è il doob Allora, secondo me Siccome è il doob non capisce nulla Magari facciamo che so il pavimento di legno Ok E gli diciamo che è un parquet pregiato Allora, no Per il pavimento ho già trovato una soluzione Lui vende il quarzo Non è proprio economico Però Noi gli diciamo Eh, come io Tutti in diamante Sabe brutto Il quarto pavimento è bello Ma Steph Se lo facciamo in legno Ci avanzano soldi che ci freghiamo Gli diciamo che è un parquet pregiato Non sei una ladra Sei un architetto Basta con queste cose Quindi Spendo tutti i centoni in diamanti Vado? Vai, vai Ok E ti sei già fatto fregare secondo me Dici? Mi avresti dovuto ascoltare Fere costa tantissimo Eh, te l'ho detto Un po' di stone Però la compriamo Perché secondo me Con il diamante ci sta bene Sì, vuoi iniziare a comprare quelle cose Fere? Sì, dammi i soldi Ok, allora Ti do un po' di soldi Ti do un po' da 20 Un po' da 5 Un po' da 1 Vai a comprare un po' comunque Aspetta che i 20 li ho ripresi Tieni Esatto, esatto Ok Io continuo a comprare quei diamanti Che ci vorrà un bel po' di tempo Ma un po' di sconto Lex Dato che ne devo comprare quei tanti Ma lo puoi anche fare Cioè, non c'è bisogno di essere così antipatici Ok, Fere, io ho fatto Abbiamo 4 stack Da 64 ovviamente Di blocchi di diamante E poi ho preso All'incirca 80 di quarzo Che credo che basterà per il pavimento Spero di aver azzeccato abbastanza E tu hai preso qualcosa? Sì, ho preso un sacco di cose Allora Non so se ci sono andata giusto O se è esagerato Comunque ho preso Una stack di stone Ok 3 stack di legna Che secondo me ci serviranno Per fare fence Per craftare le varie cose Certo, certo, certo Che gli vogliamo mettere nelle ceste in casa Poi ho preso un belletto rosso Gliel'ho preso bello largo Così sta comodo Ho comprato una bella porta d'ingresso Una tv Un divano Quattro sedie Perché gli facciamo un bel tavolo Ci sta Secondo me Per quando inviterai i suoi amici nubi Ok, il tavolo l'hai preso però? No, non c'era il tavolo Da quel venditore Lo facciamo noi Lo facciamo noi? Lo facciamo noi Con le feste Facciamo tutto Delle tende E poi un pc Ok E anche qualche fiore Perfetto Perfetto Quindi torniamo lì E iniziamo a costruire Allora Fere Dato che io non sono molto bravo a costruire Ho pensato Come potrei essere utile per Fere Quindi cosa faccio? Io mi metto a craftare Tutti gli oggetti che ti servono Ok Ok Se serve qualche altro oggetto Dai mercanti Torno io a contrattare E a comprare le cose Ma che poi ti sei fatto solo fregare Quindi Non è vero E quindi faccio un po' tutte queste cose Di conseguenza Allora Secondo me dobbiamo dire al noob di andarsene Te lo dico Perché non puoi rimanere qui a fissarci Steph Mentre buttiamo giù la sua cattapecchia Te ne devi andare Noi dobbiamo fare lo spettacolo vero Che tipo la vede all'ultimo Con tutta la musica Sì e lui arriva super sorpreso E fa Oh mio Dio Non ho mai visto una casa più bella di questa E così via Allora Noob Vai via Dai Su Matti Per favore Dai Via Possiamo iniziare Allora Fere io faccio il pavimento Ok Dato che non si può sbagliare il pavimento Io butto giù tutto Quindi mi metto Allora Sai cos'è la prima cosa che si spacca in una casa? Sì Mi hai rovinato il momento perché l'hai aperta La porta È la prima cosa che si butta giù Scusami Allora io invece parto con una bella crafting table Che è dove Steph lavorerà tutto il tempo Che posizioniamo qua perché bisogna stare un po' distanti dalla casa E mi faccio un po' di utensili Perché non posso stare lì Vado Steph A fare cosa? Inizio A fare la casa in diamante Ok vai Certo certo inizia Allora io la forma Presta poco Steph Sì Terrei più o meno la stessa Perché comunque non è così male Ok Cioè almeno la forma secondo me la forza carina Beh anche perché poi se no rimane troppo sconvolto magari Quindi ci sta a tenere qualcosa che lui ricorda Lui comunque ci ha chiesto di rimodernizzare la sua casa Non è che ci ha chiesto di fargliene uno o di stravolgere il tutto Ok io sono d'accordo E poi fare comunque è il tuo incarico Cioè tu devi fare quello Io ti ho detto posso darti una mano nei lavori pesanti Come ad esempio scavare tutto il terreno Tutto il pavimento e sistemarlo Certo certo In queste cose qua Ma per quanto riguarda l'estetica della casa Ci devi pensare tu Ah io qua noto che ci sono pure delle iane Degli alberelli Ma che cavolo va a fare Ma come fa a vivere in un posto Ma per Cioè che va con me Guarda che è dentro Ci sono Cioè aspetta scusa un attimo Io non l'avevo vista bene dentro Ma che disastro è Cioè guarda dove dormiva Fede smantello tutto Ma guarda dove dormiva sto poraccio Ci penso io Smantello tutto Altro che famiglia ricca Smantello tutto Una famiglia di poraci Ci penso Stef Ci penso Stef Dammi un pochettino e ci siamo Fede purtroppo ho sbagliato Non mi basta il pavimento Mi tocca tornare da lì A comprare un po' di cose E ci serve qualcos'altro Che abbiamo dimenticato Fede Il vetro Stef Il vetro Vedi che non gli abbiamo ancora fatto le finestre Poraccio C'è un muore qui dentro Quanto sei veloce esattamente Cioè io nel tempo in cui ho fatto il pavimento Tu hai fatto già tre pareti di diamanti Io al corso di architetti ho seguito Stef Tu no Questa è la differenza tra me e te Fede è una roba incredibile Eh sì Io ho già le idee ben chiare Quindi sto andando proprio speditissima Ok vabbè Comunque vado lì E prendo quindi un altro po' di quarzo Secondo me dovrebbe bastare tipo un 48 Una roba del genere Ok E poi un po' di vetro Quanto pensi che te ne possa servire E soprattutto Vuoi i pannelli O vuoi il blocco di vetro No i pannelli I pannelli mi piacciono di più Ok E quanti Non lo so Prendine un bel po' Perché pensavo di fargli comunque Delle finestre belle ampie Per avere una casa bella illuminata no Eh ok Ma per intenderci Quindi farle belle grandi tipo tre Oh cavolo quei soldi Io non ce li ho Ce li ho E tu mi siamo dimenticati Mi ho toccato a tornare da te Ma cavolo Stef Un 32 O vado di una stack da 64 Forse 64 Ok Per andare sul sicuro Ok perfetto Compro tutto e torno Comprato tutto Bravo Stef Hai fatto tutta sta roba nel mentre Ma davvero C'è da dire che ci hai messo una vita Ma mi senti E perché c'eravamo gli indicati Che avevi tu i soldi Ho fatto avanti e indietro Un sacco di volte Porca miseria Però così mi senti inutile Eh ma un po' lo sei Io ne ho fatto manco il pavimento Ancora Porca miseria Un po' lo sei Ci penso io Guarda come recupero A parte che guardate qua Secondo me sono perfetto Sul quarto Forse è un po' troppo Vi prego Ditemi che mi basta Vi scongiuro Ti basta? Ne mancano Ne mancano tre Lasciamoli un buco in casa Dai lasciamoli un buco in casa Ma chi se ne frega Dai ci torno dopo nel caso Feri inizia a mettere il vetro Dove tu hai messo i buchi Per le finestre Sì Ok così ho qualche altra utilità Quindi facciamo così Perfetto Tu stai facendo il tetto Vero? Sì La parte più complicata Della casa Quella è proprio la parte Che io a scuola Mamma mia Niente ci andavo Quelle le lezioni del tetto Sono una roba terribile Eh sì Infatti guardate in difficoltà Anche lei Allora No è difficile Sempre avere la prospettiva da fuori Quando costruisci Quindi un attimino Devi scendere Riguardare Rifare le cose Lo so Ok Ho quasi finito con i vetteri Adesso la guardo anche da lontano Perché sono curioso di notare già Che effetto fa a distanza Secondo me Inizia già ad essere interessante Allora poi ovviamente Il tetto lo voglio riempire in stone Perché full Diamante lo sai che non mi piace troppo Secondo me Sono d'accordissimo Sono d'accordissimo Secondo me ci vuole qualcosina Un po' per cambiare Ok Allora Il vetro è fatto Sì l'interno lo facciamo Vediamo un pochettino Io mi sa che inizia a crostare anche la porta Ok Perché mi la faccio No c'era la porta Ah beh è vero Aspetta Se voi la mettiamo eh Sì sì fai pure È molto carina sta porta Guarda eh Allora Io faccio un po' di chest Opla Guarda che bella porta Bellina Presa dal mercante Del venditore È molto bella Ma che carina che Ho messo un vetro per spazio Smettila Prego Colpa mia Colpa mia Che belle tende Che belle tende Grazie Ma io queste le avrei fatte uno più lungo però Quale Queste qua Uno più in qui E scende Ho sbagliato Distruggimela Adesso distruggi tu No Perché Perché ormai Ormai è sbagliata Me l'hai fatto notare tu Quindi me lo fai tu Ok Quindi così Giusto Aspetta che recupero questa Sì sì È più carina Sì Ok Le metterei solo in queste finestre grandi Perché le altre Sì nelle piccole non avrebbe senso Non avrebbe minimamente senso Adesso Fere In questa chest Ci sono tutte le cose che tu mi avevi chiesto Ho fatto un po' di chest Ho fatto un po' di fence Ho fatto un po' di pressure plate E ho fatto anche una fornace Perché secondo me poteva essere utile Con un po' di coble sono avanzata Io mi sto spostando tutto quello che avevo Quindi Dimmi un pochettino Io stavo pensando Tu adesso ti metti a fare le ultime cosette all'interno Io vado già a richiamare il noob Così li facciamo vedere la casa Completa Lui impazzisce Va bene Tanto ormai è praticamente finita Mentre finisci le ultime due cosette Io lo chiamo Ovvio 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 E vediamo la sua reazione Tieni gli occhi chiusi Tieni gli occhi chiusi E benvenuto nella tua casa Mio caro noob Guarda che bellissima Presentiamo tutto Esatto Tavolo per fare colazione Con un bellissimo fiorellino qua Che ti fa proprio venire voglia di vivere Bellissimo Poi abbiamo salottino Con televisione Tavolino Divano E una bellissima cesta Certo qua per rimettere le tue cose Qua per appoggiare Metti Sei qua seduto Ti fai Bevi una bevanda Appoggi qui Mentre ti guardi La tv Mi sembra giusto Poi abbiamo la zona dove cucinare Con appunto una cesta Dove tenere tutti gli ingredienti Beh Steph C'è da dire che ci sono andate a gentile Ho lasciato solo questo per cucinare Perché la crafting table Non gliela lascio No Tanto non gli serve a nulla Non gli serve a nulla E poi Questa è la parte geniale Il letto doppio Molto molto carino Con tanto di portatile Non so se lo saprà usare Ma ho pensato Lui è di quelli che prende il virus Ogni volta che apre Facebook Clica tutto E si becca dieci virus Esatto Ho detto Magari così avrà una finestra sul mondo E forse diventerà intelligente Primo o poi Non credo Comunque vediamo se è felice Oh mio dio Vabbè Fede è impazzito È impazzito Da ora in poi nessuno mi dirà più Che sono noob No Forse te lo diranno lo stesso Con una casa del genere Fara un figurone Eh sì la casa è bella Ma poi la tua faccia No Grazie mille Tutti i soldi che vi sono avanzati Sono vostri Fatene buon uso Beh Fede Ti è avanzato qualcosa? A me non ha avanzato nulla E gli ultimi soldi li ho dati a te Quanto ti è avanzato? Abbiamo Sei da 50 Trecento Cinque Beh ci ha dato più o meno Un cinquecento di soldi Dai Non è male Ma un pochino Forse stefa Saperlo prima Che la nostra paga sarebbe stata quella Non c'è Sarei stato un po' più tirchia Ti dico la verità Beh per la nostra casa dei sogni È poco Però Fede D'altronde è anche il nostro primo lavoro Però dai c'è da dire Che come primo lavoro Oh io sono un po' invidiosa A me piace tanto come caso Cioè viene a sederti qua Non è troppo carina Eh lo so Vorrei averci la casa a fare Ma ce la dobbiamo ancora costruire Ti sei seduto sopra di me Stai Togliti Ti dicevo È carina È funzionale È tutto quello che serve Per una vita tranquilla Come la sua Lasciamolo chiuso in casa E quindi direi che va bene Anche fuori Non mi dispiace Dai Non mi dispiace Poi ho messo anche i fiori Giustamente per la grande inaugurazione Mi sembra giusto Per rendere più bello l'ingresso E sto soddisfatta Grazie a tutti